Ed eccoci qui, bene facciamo il rec, questo faro laterale è battuto rapido, rimane lì, c'è un morto a terra e poi di esterno a destro la mette fuori Luis Alberto Paredes, alza anche lui uno strano campanile ma c'è un morto a terra e quindi si ferma il gioco. Allora signori, come commentare questo rasso di evento? Sino assoluto credo che ci sia stata una bella partita, soprattutto nel secondo tempo, molto viva, molto attiva, bella da vedere, uno spot piuttosto piacevole per il calcio italiano, va bene così. Il primo tempo piuttosto palloso però, a me non è che sia piaciuto molto il primo tempo, anche se alla fine c'è stato qualche buona azione, un colpo di testa di Savic che l'ha impattata male, una bellissima parata di Szczesny su un tiro di immobile veramente ben fatto, una Juventus nulla, credo soltanto quel cross di Vlaovic che l'ha impattata alta ma praticamente nulla e poi dopo sul finale al trentanovesimo il gol di Savic, c'erano state delle proteste, vabbè, per una lieve spinta su Sandro che ha accentuato la caduta, Marelli poi su Dason ha detto la sua, vabbè, ma va bene così. Invece dall'altra parte, subito dopo c'è stato il pareggio della Juve, tanto per cambiare il pareggio della Juve e ha virivato ovviamente su un calcio piazzato perché ormai niente, il gioco della Juve è quello che è, soprattutto quando il livello si alza un po' a livello tecnico, la Juve o la butta dentro con i calci piazzato oppure niente da fare, comunque vabbè, abbiamo pareggiato con Rabiotto e poi la ripresa, la ripresa come vi dicevo è stata molto bella, ritmi alti però, niente, alla fine ha vinto la squadra che è il livello tecnico più alto e noi abbiamo un Di Maria che onestamente non lo vedo in grande forma, che poi per l'amor di Dio ha un livello tecnico sempre alto, si prende bei pallone, ha fatto un controllo di sinistro, mio Dio, degno di Pogba. Ricordate Pogba era un ex giocatore, giocava tanti anni fa, Pogba non so chi di voi se lo ricorda, forse i più piccoli, piccola pareggia, vabbè, comunque però togliendo quello ha perso anche dei valoni banali, ha provato dribbling che non doveva, anche prima ha battuto un calcio di punizione molto bello, direttamente fuori, cioè, molto bello come posizione dico. E poi, vabbè, oltre a quello l'inutile Vlavic, qui in chat possono confermare dall'inizio della partita che lo chiamo così, alla fine dopo il 2-1, tra l'altro è arrivato con quel colpo di tacco di Luisa Alberto che vale da solo il prezzo del biglietto, vediamo un attimo sto cross sul secondo palo, Rabiotto ancora anticipato, credo calcio d'angolo, calcio d'angolo, sì, al 93, che poi il gioco è stato fermo un minuto, è entrato anche Pedro, vediamo un attimo, albito è calcio d'angolo, falo laterale, deciditi, andiamo, mi decidete tutti e due, andiamo a casa tutti e tre, eccolo qua, calcio d'angolo, deciso, Paredes, ci avvicino anche Chiesa, cross buono di Paredes, mette fuori il provedello di pugno ed è carica al portiere. Quindi, come vi dicevo, alla fine, niente, noi abbiamo purtroppo una squadra veramente rimaneggiata per certi aspetti, senza Danilo stasera abbiamo sofferto, a mio avviso, perché Alexandro, Quadrato, poi entrambi ammuniti, non lo so, fanno anche delle cose buone, per l'amor di Dio, però si vede che non abbiamo dei terzini di altissimo livello, sono a fine carriera, poi, e poi Quadrato, per l'amor di Dio, è anche un bravo ragazzo, quello che volete voi, ha segnato pure con l'Inter in Coppa Italia, però, Dio, avete visto il giallo che si è preso? Cioè, ma che giallo è quello? Cioè, Giaccani piglia il pallone, lo butta via e tu gli vai a franare addosso mezz'ora dopo, ma perché? Alexandro, poi, che prende il pallone, ad esempio, guardatevi, il giallo per Locatelli, poverino, Alexandro, prende il pallone, lo va a dare a Locatelli che aveva Immobile dietro e Savic davanti, che cazzo di palla gli va a dare? Cioè, non male che poi la perdita è costretta a fare fallo da giallo, cioè, non lo so, comunque, vabbè, ormai quello ci troviamo, Bremer e Gatti, le solide incertezze, anche se poi sul gol del 2-1, lì, veramente, solo da fare i complimenti a Luisa Alberto, e alla freddezza di Giaccani, sicuramente, comunque, Lazio, secondo me, in fondo, l'ha meritata sta vittoria, perché ha giocato comunque, proprio a livello tecnico, mi è piaciuta di più, e niente, alla fine, in attacco, non abbiamo quello che abbiamo. Ovviamente, migliori in campo, per me, Chiesa nella ripresa, che ha fatto vedere delle cose fantastiche, perché anche Kostic stava giocando benino, ma si sta appannando anche lui negli ultimi tempi, e poi, alla fine, ovviamente anche Rabiotto, che comunque vada, alla fine, è il capocano nere che ci troviamo, ormai, quando non sappiamo che fare, facciamo un calcio piazzato, diamola per Rabiotto, e niente, alla fine le speranze della Juve si sono tutte fermate su quel tiro di fagioli di sinistro, adesso anche giallo per Miretti, la partita finisce qui, e niente, peccato, peccato, perché adesso anche giallo per Miretti, però, è stata una bella partita, in un campionato, dove in fondo, io rimango sempre di questa mia idea, per me questo campionato non mi interessa, cioè un campionato che non mi dà stimoli, è veramente, anche se stasera avessimo vinto, cosa avrebbe concluso? Niente, tanto c'è una penalizzazione prossima che sta per arrivare, la zona Champions già è decisa, la salvezza ce l'abbiamo, è un campionato ormai finito, quello che rimane ormai è l'Europa League, la Coppa Italia, e ovviamente nel campionato far crescere i giovani, attenzione, Savic sul fondo, vabbè, la tocca pure con la mano, quindi, non ha detto che, far crescere i giovani, peccato che Fagioli abbia sbagliato, però perlomeno ha giocato, è un'esperienza, deve imparare ad acquisire freddezza sotto porta, Miretti mi fa piacere che abbia giocato, mi ha fatto piacere che ha giocato su Le, sto scherzando, su Le è ovvio ragazzi che non può giocare, attenzione, Paredes deve evitare il 3-1 della Lazio, fa una bella azione difensiva, poi dà la palla a Miretti, adesso è frettolosissima, però ho capito, un altro minuto di recupero, ah vero, per l'infortuna in area di rigore di un giocatore della Lazio che era caduto male sul ponte di Gatti, Chiesa si gira veramente molto bene, Chiesa, esterno destro molto strano per Di Maria, però il pallone gli arriva lo stesso, beh, su un mondo tutti in avanti, vai, pure il portiere, tutti, tutti su, e poi Di Maria, come vi dicevo, sbaglia anche quest'altra, è un Di Maria, un Di Maria non Di Maria stasera, così come la SWORD sono Marine e non Marine, questo è un Di Maria non Di Maria, e finisce qui, termina qui, anche in questo caso, ripeto, è un'azione che poteva andare diversamente, invece niente da fare, ha deciso Di Maria di buttarla addosso agli usai, quindi le tante imprecisioni, il Di Maria che è venuto meno, e poi anche alcune scelte, io ripeto, l'unica cosa che mi rimpiango di tutto ciò che stiamo vedendo è il fatto che perdere, vincere, non ce ne frega un cazzo, fare solo dei giovani, stiamo facendo giocare Varedes, wow, sta acquisendo esperienza Varedes nella nostra squadra, che cosa bella, questo fra due mesi se ne va, perché non far giocare Sule? Cioè rimango sempre di questo, eh ma con Sule avremmo perso, avremmo perso comunque, ma almeno fa, cioè, che fine hanno fatto tutti questi ragazzi, ma sto sentendo che Caio Giorgi si sta riprendendo, purtroppo è infortunato anche cosa, vabbè poi lasciamo stare un velo pietoso su Pogba, perché lì, con Pogba non si può commentare con la lingua italiana, si può commentare solo con le bestemmie, che è un'altra cosa, ma a sto punto non ne vale neanche più la pena, però ad esempio anche Ake, quell'altro lì, mi viene in mente De Jong, non so perché, avete capito comunque chi, il Ling Junior lì, quazio mi è uscito De Jong, ma che c'è, c'è tutti i giocatori, capito, io, almeno fatemi vedere questi qui, pure che perdiamo, vaffanculo, almeno c'è qualcosa da vedere di interessante, gettiamo le basi per l'anno prossimo, capiamo su quali costruire la squadra e quali no, cioè se le cose sono andate male, perché perdere tempo, comunque vabbè abbiamo perso un'altra partita, l'ennesima di questo campionato, complimenti alla Lazio che come sapete è la mia seconda squadra, perché sono simpatizzante, quindi meglio così, bene ragazzi vi saluto, buona Pasqua per domani, mi raccomando guardate i video commento, ci tengo perché quello è importante, per il resto fate i bravi e ci vediamo prossimamente, grazie mille anche a tutta la chat, ci vediamo per la live, per l'amaro, che l'amaro ci deve stare, l'amaro sulla scelta, l'amaro filosofico e poi anche la live di cui si sta un attimo discutendo su cosa fare, bene a tutti, grazie a tutti, ci vediamo, ciao ragazzi, buona Pasqua, ciao, non mangiate troppa cioccolata e non bevete troppo vino a Pasquetti, raccomando, ciao.